E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRK01 e oggi siamo al 27esimo episodio di Pokemon Smeraldo Randomizer La cosa più importante del gioco ragazzi, oggi faremo la Lega Però, non so, cioè nel senso, dividiamo i Super 4, nel senso, primo episodio del Super 4, secondo Super 4, terzo Super 4, quarto Super 4 E poi campione, quindi ci saranno ben 5 episodi ragazzi Tutti di file, quindi un giorno, un giorno, un giorno Quindi vi aspetto ragazzuoli, mi raccomando, andiamo subito Eccoci qua signori, ho allenato i Pokemon, ho allenato, quindi ho Regis al 51 Charizard al 51, Blaziken al 51, Zabtos al 50, Ispion al 49 e Venusaur al 46 Venusaur era quello più difficile da allenare, quindi l'ho lasciato al 46 ragazzi Perché era molto faticoso, purtroppo aveva soltanto fogli lama come mosse, quindi ho dovuto fare tipo alcuni tan al 51 perché grazie a loro ho livellato Venusaur Però va bene anche al 46 ragazzi Io direi di andare subito contro il primo Super 4 Intanto Zaino, vediamo se abbiamo Le Iperpozioni, le vitalizzanti e quel totale Va bene, abbiamo un po' tutto ragazzi Abbiamo un po' tutto Allora Qui abbiamo, va bene, va bene, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo ragazzi Ce l'abbiamo Allora, io direi di iniziare così Da qui in poi sono gli allenatori che hanno vinto tutte le medaglie Possono entrare Allenatore, controlliamo che tu abbia tutte le medaglie Allenatore, abitudine nelle tue capacità e nei tuoi Pokémon Coraggio E andiamo ragazzuoli Primo Super 4 Non mi ricordo il nome, eh Andiamo signori Andiamo ragazzi Ti do il benvenuto sfidante Sono Posco Dei Super 4 Mi piace il tuo sguardo Piero Ci aspetta, è una grande sfida Non sto più nella pelle Bene dai Bene, diamo il via da una sfida Che può avere luogo solo in questa sede Nella lega Pokémon Mamma mia ragazzi, sentite Nene 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 Rimarei così sincero E' il turno di Tentacrull Primo Pokémon al 46 Attenzione I loro erano andati fino al 50 ragazzi Non so se era il livello giusto Però ho controllato Io direi di fare bel ferartigli signori Vai Registeel subito Vediamo quanto togliamo Un quarto di vita va bene Bola raggio di Tentacrull Vediamo un po' super efficace Registeel Attenzione ragazzi Forse dovrei cambiare Pokémon Però facciamo forza Vediamo quanto gli tolgo ragazzuoli Con forza E lo quasi shottiamo Lui usa barriera Un'altra forza ragazzi E forse Forse lo shottiamo Lui usa ricarica totale La prima ricarica totale Non mi ricordo quanto ce l'hanno Forse due ragazzi Comunque raga Io sono molto Molto Papapapapam Vorrei Non ho fatto niente ragazzi Forza antica Vorrei portare Dopo Pokémon Un altro Pokémon Però non so quale Quindi casomai consigliate nei commenti Quale Pokémon vorreste vedere Perché su Twitch sto facendo Pokémon Perla Quindi ditemi Casomai cosa fare Sul YouTube Cosa volete vedere L'ho svegliato ragazzi Vabbè ferro scudo Vai In realtà questo qua Lo devo usare all'inizio ragazzi Secondo me Così non mi ricevono tanto danno Ferartigli signori Ferartigli subito Let's go Super efficace A Vinout E Addio ragazzi Un colpo Un colpo Attacco di regge Si sale Ragazzi abbiamo Difesa che è salita E attacco Che è salita Signori Mamma mia Stealix O comunque c'ha dei Pokémon Incredibili Questa qua Vai Ancora Ferartigli Vai Steal Vai Si Steal Vai Regge Steal Super efficace Ancora ragazzi Però vi faccio metà vita Quasi Lui ci fa Coda acciaio Signori Coda acciaio Super efficace anche a noi Però La nostra difesa è molto Piuttosta della sua Perché noi ci siamo potenziati Vai Vai signori Vai Elo shot Ragazzuoli Elo shot Attenzione Ma Egi Steal Che stai cariando Vai Regge Steal Contro Joltion Signori Ferartigli Mi ricordo In una squadra Noi abbiamo Ispion Vediamo un po' Quanto le togliamo Con Ferartigli Eccalla Eccalla Ragazzi Con onda Paralizzato Questo è un problemino Ora Lui si fa Ricarica totale Speriamo che attacchiamo Ragazzuoli Speriamo che attacchiamo E non ci Paralizza E' paralizzato Invece Va bene Io direi di fare una cosa Ragazzi Allora O ricarica totale Però abbiamo Soltanto una Di tanto abbiamo Prozione max Raga Vai ricarica totale In questo momento Sì ragazzi Almeno la paralisi Ce l'ha tolta Doppio calcio Super efficace Ma ci toglie Pochissimo Perché la nostra difesa È Troppo forte E direi di fare Un'altra volta Fertigliez Magari ci aumenta L'attacco Alcune morte Ragazzi Però Ok Tuono onda Un'altra volta Ci paralizza Attenzione 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 Signori Attenzione Doppio cazzo Doppio cazzo No Super efficace Per forza Perché se mi ricordo Noi siamo Tipo roccia Ragazzi Perché il tipo Qua è tutto random Però il prossimo Gioco Pokémon Sarà normale Ragazzi Senza randomizer Senza niente Normale Nel chill Proprio Nel chill Zualot Zualot L'ultimo Pokémon Su ragazzi Incredible 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 Accumulo Ci usa accumulo Signori Ci usa accumulo Intanto noi È paralizzato Il nostro Picco deriso Picco deriso Pango bomba Non ci fa nulla Ragazzi Non ci fa Veramente nulla Ferartigli su Zualot Super efficace Signori Ed è quasi morto Bacca arancia Che c'è Bacca cedro Recupera un po' di HP Ancora Fangombomba Ok Ferartigli Fallisce Signori Fangombomba Di Zualot Ok Ferartigli Signori E l'abbiamo Ucciso E il primo È andato E il primo È andato Ragazzuoli È avuto la meglio Su Fosco Super 4 Lo ammetto Ho perso Beh non importa È stato divertente Richi vince 4.900 soldini Ragazzi Ascolta bene Quello che ti ho sto per dire È la stoppa Del campione Entra nella prossima sala E preparati A dare una nuova sfida Ragazzi Comunque Io devo dire Che non ha giocato male Questo Registil Ha giocato soltanto lui Quindi Se ho qualcosa Per togliere la paralisi Sono molto contento Ragazzi Ma mi sa Non ho un cazzo Vediamo le bacche Se c'ho qualcosa Ragazzi Avveramento Restituisci Il primo Per confondere E riduce Eh no ragazzi Non è un cazzo Tocca giocare con Eh Cazzarola La prossima sfida Con Registil Che è paralizzato Ma sicuro Non ho Cosa ragazzi No 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 Niente ragazzi Non c'ho nulla Stop Oh ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate like Condividete il video E ci vediamo Alla prossima Ciao Kiki Sì